Lungo intervento del servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte del soccorso alpino-speleologico piemontese ieri sera nella zona delle strette del Casè nel Parco Nazionale della Val Grande a Cossogno. Una donna di nazionalità italiana è caduta rovinosamente lungo le balze rocciose procurandosi importanti lesioni agli arti inferiori. Il compagno, il leso, è riuscito a chiamare il 112 intorno alle 18. Da subito le operazioni si sono dimostrate impegnative per il terreno particolarmente impervio per cui il tecnico del soccorso alpino a bordo dell'elicottero ha chiesto supporto alle squadre a terra che hanno messo a disposizione un altro tecnico che è stato ritrasportato nel punto dell'incidente in appoggio nell'operazione di messa in sicurezza dello scenario di stabilizzazione della paziente e dell'evacuazione. L'intervento si è concluso intorno alle 20 con il trasporto dell'infortunata in ospedale per il ricovero con un codice giallo. Altri due interventi hanno visto i soccorritori impegnati nel weekend in Valle Vigezzo per un cercatore di funghi caduto mentre sul sentiero per la diga dei sabbioni in alta Val Formazza una donna ha riportato un trauma alla gamba. L'elicottero non poteva intervenire e così l'hanno portata in barella fino alla strada del lago di Morasco dove li attendeva l'ambulanza.